Avrebbe lanciato un coltello contro la madre durante una lite, dopo averla minacciata e aver picchiato con pugni al volto il fratello minore, 28enne. Per questo un 42enne è stato arrestato la notte scorsa dalla polizia per maltrattamenti in famiglia. È caduto a Firenze, nella zona dell'isolotto. La donna, urtata di striscio dal coltello, non ha riportato ferite. Ma il giovane, già noto alle forze dell'ordine, con problemi di alcol e droga, si era già reso il protagonista in passato di simili episodi. Negli ultimi mesi avrebbe aggredito la madre due volte, in un caso tirandole contro una lampada e in un altro colpendola con calci nello stomaco.